Presidente Massimo Bitonci, alla luce delle ultime dichiarazioni del Ministro Chienge, qual è il suo commento? Io penso che soprattutto negli ultimi giorni il Ministro stia facendo la vittima e sta sfruttando un po' queste dichiarazioni che stanno uscendo. Io penso che sia sbagliato attaccare così direttamente il Ministro, è sbagliato attaccarla personalmente. Bisogna che invece la contrastiamo sui temi, sullo Iussoli, dobbiamo contrastarla sul reato di immigrazione clandestina che esiste in tutta Europa, esiste anche in Vaticano. Questi sono i nostri temi. Certo che lei ovviamente cavalca quest'onda anche di popolarità e io spero che nel fine settimana vada a Milano Marittima a fare questo incontro, questo dibattito con il Governatore Luca Zaia. Penso che questo sia positivo perché ne riuscirà demolita dall'incontro con il Governatore Zaia perché sicuramente lui riuscirà a spiegare quali sono le motivazioni che ci stanno sotto a questa forte protesta da parte del mondo leghista. Noi siamo contro le sue proposte sull'immigrazione, anche quelle che ha fatto in questi giorni questa nuova carta per l'immigrazione. Penso che è una proposta assurda. In un momento così di crisi economica dove invece i lavoratori stranieri stanno andando via dall'Italia, fa delle proposte invece che potranno solamente richiamare nuove orde in Italia. C'è un problema legato anche all'immigrazione clandestina, stanno arrivando nelle nostre coste centinaia e centinaia di clandestini. Il Governo dovrebbe sicuramente attrezzarsi e fare degli accordi di carattere internazionale con i paesi Nord Africa e non portare avanti questi annunci che fa il Ministro che sono estremamente negativi e non fanno nient'altro che richiamare e mettere in pericolo questi extracomunitari clandestini che cercano un nuovo mondo.